Ciao a tutti, ben ritrovati su Sunshine Money. Prima di iniziare, mi raccomando, come sempre, volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Oggi volevo proporvi un'app disponibile sia per Android che per iOS, quindi per iPhone, che ci dà la possibilità di andare a guadagnare Ethereum. Vi ricordo che Ethereum è una tra le più importanti cripto dopo il Bitcoin, semplicemente scattando delle foto. Vado a prendere l'app direttamente dal mio smartphone. Eccola qui, l'app si presenta in questo modo. Cosa bisognerà fare per andare a guadagnare? Allora, innanzitutto bisognerà andare a iscriversi tramite la propria email, inserendo una propria password. Mi raccomando, la password deve contenere caratteri maiuscoli, minuscoli, numeri e caratteri speciali. Una volta fatto tutto questo, ci verrà mandata una email di conferma. Dovremo andare a confermare questa email. Una volta che abbiamo chiuso il cerchio della nostra iscrizione, potremo andare ad entrare nel nostro account. Una volta entrato nel nostro account, la prima cosa che vi consiglio di fare è andare qui in alto a sinistra nel menu a tendina, andare nella voce settings e andare a impostarci qui il nostro wallet Ethereum. Una volta fatto tutto questo, possiamo iniziare a guadagnare. Come vi dicevo, con questa app si guadagna facendo delle foto. Questa app non ha un reflink, quindi non c'è possibilità, come dire, di creare una nostra rete di amici. Allora, dicevo, come si fa a guadagnare con questa app? Bisognerà fare le foto seguendo gli argomenti che ci vengono proposti. Scorrendo, come potete vedere, ci vengono proposti vari argomenti, quindi vari micro work, micro work vuol dire micro lavori. Questi micro lavori appunto consistono nello scattare le foto che ci vengono richieste. Ad esempio, io ne vado a scegliere una. Qui, ad esempio, ci viene richiesto di scattare foto agli store Swarovski. Entrando nello specifico, come potete vedere, ci vengono richiesti i loghi, ci sono anche le foto dimostrative di quello che ci viene richiesto. Se ci clicchiamo sopra, ecco qui. Ok. Poi, qui, ad esempio, ci vengono richiesti le facciate. Ecco qui. Ok. Qui ci vengono richieste le collane e così via. Ok. Una volta che scatteremo le nostre foto, queste passeranno attraverso l'app e se verranno approvate, come potete vedere qui sotto c'è la voce rigettate e approvate, se verranno approvate, ci daranno diritto a 5 centesimi di dollaro in Ethereum a foto. Una volta arrivati al prelievo minimo di un dollaro, potremo tranquillamente andare a ritirare sul nostro wallet Ethereum. Io ho visto in giro varie prove di pagamento, quindi mi risulta che l'app è assolutamente seria e pagante. Niente. Scorrendo, come potete vedere, ci sono vari micro work, vari, come dire, vari lavori che andare a fare. Ad esempio, ne vado a prendere un altro. Qui ci vengono chiesti, ci vengono chieste delle foto relative a dei frutti. Quindi, se ci clicchiamo sopra, come potete vedere, ci viene chiesto il mandarino e ci viene chiesto il melone. La ricompensa, una volta approvate le foto, è di, come vi dicevo, 5 centesimi di dollaro a foto. Ripeto, arrivati al prelievo minimo di un dollaro, possiamo tranquillamente andare a prelevare sul nostro wallet Ethereum. Questo è quanto. Quindi, io, in chiusura, vi ringrazio per la visualizzazione. Mi raccomando, vi rinvito ad iscrivervi, ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Like ai video che vi piacciono. Vi ricordo che, se volete sostenermi in modo assolutamente disinteressato, potete farlo, io ve ne sarò grato, attraverso tutti i wallet, i portafogli che trovate in descrizione, oppure, in futuro, attraverso il sistema Brave, che vi ho spiegato tante volte. Brave è il browser legato alla CryptoBat, che vi invito a provare. Questo browser ha sviluppato un sistema pubblicitario assolutamente gratuito che ci darà diritto a questi BAT. Questo sistema in Italia, ahimè, non è ancora attivo e quindi andremo ad aggiornarci anche da quel punto di vista. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti. Ciao, al prossimo appuntamento.